Ugo Foa, testimone delle leggi razziali introdotte durante il ventennio fascista, è stato ospite dell'Istituto Fermi a Catanzaro, nell'ambito della rassegna memoria della parola ai testimoni. Sì, io sono venuto anche a Catanzaro perché io da parecchi anni porto questa testimonianza in tutte le scuole d'Italia, anche in altri luoghi che non siano scuole, istituzioni, vado dove naturalmente sono invitato. Io faccio parte, insieme ad altri amici della mia stessa situazione, faccio parte dell'associazione Progetto Memoria che si prefigge appunto di portare la testimonianza dovunque ma soprattutto nelle scuole di quanto è accaduto in Italia dal 1938 in poi, perché molti hanno sottovalutato la gravità delle leggi anti-ebraiche in Italia del 1938, leggi che hanno privato i cittadini italiani di religione ebraica di tutti i diritti civili per poi arrivare nel giro di qualche anno anche in conseguenza della stretta alleanza tra l'Italia fascista e la Germania nazista, poi alla eliminazione fisica degli ebrei.